... Buonasera, esponenti del PD oggi ad Imperia con un'iniziativa a sostegno della candidatura di Matteo Renzi a segretario del Partito Democratico in vista delle primarie che si terranno domenica. Sentiamo. Julio Vassallo, siamo vicini alle primarie e ormai si va il voto. Si va il voto e speriamo che domenica 30 aprile vengano moltissime persone a votare perché la cosa più importante al di là del risultato, al di là del fatto che io esprimo la mia preferenza per Renzi, però la cosa più importante è che siano milioni di persone che vengano a votare in Italia. Quanto è importante votare domenica? Difficile dirlo. Il clima politico complessivo non è il clima più adatto alla partecipazione, purtroppo. Noi ci stiamo dando da fare affinché l'unico partito che esprime in termini democratici, coinvolgendo migliaia, anzi centinaia di migliaia di persone per scegliere il suo leader, abbia un consenso il massimo possibile. Domenica è l'ennesima prova di democrazia che offre il Partito Democratico, che va a rinnovare i suoi organismi dirigenti, non lo specifico l'elezione del segretario nazionale e dell'assemblea nazionale, attraverso il voto degli elettori e dei simpatizzanti. Ormai le elezioni primarie sono la modalità con la quale noi del Partito Democratico scegliamo i nostri dirigenti. Il 30 di aprile sarà una volta nuova e ancora una volta eleggeremo i nostri dirigenti con questa modalità. In tutta la provincia ci sono numerosi seggi, si voterà dalle 8 alle 20. Per la precisione ci sono 24 seggi a tempo pieno e una decina a tempo parziale. Gli elettori, a seconda della loro residenza, andranno a votare in uno di questi seggi e potranno farlo versando 2 euro, che serviranno per l'organizzazione delle primarie e dopodiché esprimeranno la loro preferenza tra i tre candidati in campo. Quindi Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. L'Oculano si va al voto domenica perché è importante? E' importante per dare un messaggio anche di speranza e di rinnovamento di quello che è il Partito Democratico. Noi sosteniamo Matteo Renzi con convinzione e ci auguriamo che ci sia anche una buona affluenza, ovviamente nel rispetto di tutti gli altri concorrenti che sono sempre del Partito persone meritevoli. Incredibile vicenda a Ventimiglia dove durante una gara di pesca è stato ritrovato in un bivacco di migranti un volto di Cristo probabilmente staccato da una statua o da una lapide coperto da escrementi umani. Ad effettuare la scoperta è stata l'assessore regionale Stefano Mai. Sentiamo. Sono andato a Ventimiglia perché c'era una gara di pesca di livello regionale, sono andato a visitare, a vedere il fiume, il campo gara e una serie di indumenti, di sporcizia, di giaccigli improvvisati, uno scempio ambientale proprio sul fiume e escrementi ovunque. E poi ho incontrato un amico che era giudice di gara, che si era occupato di verificare appunto il settore e aveva in mano una testa di Cristo, una statua di Cristo in marmo che era completamente coperta da escrementi. È stata trovata in uno di questi giaccigli di fortuna utilizzati dai migranti che stazionano in ogni luogo di Ventimiglia ma soprattutto sulle rive del fiume Roia. Insomma, lì è nata veramente un senso di amarezza perché vedere un nostro simbolo religioso trattato in questo modo sicuramente ha scaturito molta tensione non solamente tra le persone che erano lì in zona con me ma anche poi tra la popolazione che è venuta a conoscenza di questo. È stato un bruttissimo ritrovamento, ora questo mio amico l'ha pulito, l'ha lavato, stiamo cercando di capire da dove provenga perché lì vicino c'è anche una zona cimiteriale che può darsi che sia stato asportato appunto dal cimitero e sia stato utilizzato per questi fini. È un attacco alla nostra, io penso, alla nostra identità, alla nostra cultura, alla nostra religione è un affronto che sicuramente non possiamo sopportare. Quindi si pensa ad un gesto non solo di poca cura ma anzi forse denigratorio volontariamente? Io credo proprio di sì perché voglio dire, escrimenti c'erano un po' ovunque sulla riva del fiume però trovare questa statua, questo viso, questo volto di Cristo completamente ricoperto questo è sintomatico perché avrebbero potuto farli altrove i loro bisogni in mezzo ai cespugli o in acqua invece hanno deciso ovviamente di farli in quella circostanza su quel volto. È stata una cosa bruttissima che anche per chi non è esattamente un uomo di chiesa che non è esattamente tutti i giorni, tutte le domeniche ad ascoltare le orazioni e colpisce, è un pugno allo stomaco molto forte. È stata firmata oggi a Genova un'intesa tra la Regione Liguria e l'Agenzia del Demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. molti gli enti che si sono seduti intorno ad un tavolo per discutere il futuro di edifici pubblici per dare sviluppo al territorio e servizio. Lo pubblico è un gigantesco patrimonio, spesso di grandissimo pregio e altrettanto spesso poco valorizzato. L'accordo che firmiamo oggi va nella direzione giusta, quella di dare un valore, di rimettere sul mercato dove è possibile o comunque di utilizzare una serie di edifici, talvolta ripeto di grande pregio, spesso non utilizzati e altrettanto spesso non valorizzati, ovvero che sono solamente un costo per l'erario pubblico e quindi per il contribuente senza dare nessun beneficio. Io credo che la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico sia una delle azioni concrete per dare sviluppo alla nostra terra, una terra che ha moltissimi oggetti di pregio in questo senso e quindi ben venga anche un buon segnale di collaborazione istituzionale. Credo quando Regione, Comune, Demanio pubblico, Università si siedono intorno a un tavolo di una stessa città per discutere insieme di edifici che fino ad oggi sono stati solo un costo, credo che siamo sulla strada giusta. Una intesa strategica, una intesa nazionale con richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio alle regioni e di conseguenza anche a tutte le realtà pubbliche di valorizzare gli immobili, gli immobili sul territorio, di censirli, di trovare il modo che realtà esistenti, che già magari sul territorio offrono un servizio importante ai cittadini, immagino ville di prestigio che ospitano magari musei, realtà sicuramente significative ospitate in ambienti pubblici che in un discorso di ragionamento più completo, coinvolgendo anche le istituzioni in primis le regioni, si possano quelle realtà censirle e su di esse studiare anche dei programmi di valorizzazione e di rilancio. Tante volte queste realtà hanno bisogno di interventi pubblici di tipo edilizio, di tipo urbanistico per riqualificarli e altre volte hanno bisogno anche di una promozione e di una conoscenza dell'esistenza di quel patrimonio che purtroppo ogni tanto, nonostante la buona fede e l'impegno di tutti rischia di non essere riconosciuto come si deve. Quindi noi abbiamo aderito subito a questa richiesta dell'Agenzia del Demanio, siamo tra le regioni più attive da questo punto di vista, siamo contenti oggi di poter firmare qui a Genova il protocollo, abbiamo collaborato con le realtà, continueremo a collaborare con i territori, soprattutto con i comuni, con le province, con le città metropolitane, perché chiediamo che sia venuto veramente il momento di riconoscere che esiste un importante patrimonio pubblico ligure, però non deve essere lì abbandonato, a rischio anche di essere dimenticato sotto ogni punto di vista, ma deve essere valorizzato. Ecco perché oggi siamo qua, ecco perché oggi viene formato questo protocollo d'intesa, la regione sarà parte attiva, avremo un tavolo tecnico di coordinamento sul territorio, creeremo una realtà web dove poter inserire tutti i nostri i beni immobili e si potrà anche fare una politica da parte anche di esterni che possono portare delle idee, possono portare dei progetti finalizzati a valorizzare il patrimonio pubblico e non lasciarlo, come dire, abbandonato o in degrado. E mentre prosegue la crisi dei negozi tradizionali, in Liguria cresce del 3,3% il commercio ambulante, unica provincia dove si registra un lievecale proprio quella d'Imperia, più della metà delle imprese è condotta da stranieri. Sentiamo. Negli ultimi quattro anni il commercio ambulante in Liguria è cresciuto del 3,3% rispetto al più 8,3% italiano, passando da 4.942 a 5.103 imprese, a fronte di una riduzione del commercio svolto nei tradizionali negozi, che ha registrato un meno 5,1%. A Genova le attività ambulanti sono 2.722, 140 in più rispetto al 2012, ad Imperia 852, 44 in meno, a Savona 732, con un aumento di 12 unità, e alla Spezia 797, 53 in più del periodo. Il dato più significativo riguarda gli stranieri, che rappresentano quasi il 60% del totale delle imprese e che nello stesso periodo sono aumentati del 15%, più 29,5 a livello nazionale, passando da 2.607 a 2.998 imprese. La quasi totalità dell'impresa ambulante in Liguria è costituita da imprese individuali, che ammontano a 4.875, pari al 95,5% del totale, e di queste 2.982 sono straniere. La nazionalità più presente è quella del Marocco, con 1.494 ambulanti, in aumento del 10,3% rispetto al 2012. Il settore più gettonato è quello dei tessuti, articoli di abbigliamento e calzature, che a dicembre 2016 contava 1.567 imprese ambulanti, pari al 30% del totale, con una crescita delle 10,4% negli ultimi 4 anni, quasi 900 sono straniere, con un più 22,9% rispetto al 2012. Stabile il contributo delle imprese giovanili, 15% del totale, che da 795 sono scese a 789, con una perdita dello 0,8, più consistente la riduzione delle imprese femminili, 22,1% del totale, che perdono 86 unità, pari ad un meno 7,1. E si svolta oggi ad Imperia, presso la sede della Camera di Commercio, un seminario sul monitoraggio del sistema di qualità e mutamenti dell'autorizzazione e accreditamento sociosanitario. L'incontro, organizzato dall'Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, ha visto il confronto di diverse esperienze. Sentiamo la referente Ligure, Laura De Andresi, direttore generale della Casa di Riposo Borelli di Pieve di Teco. L'incontro oggi, qui alla Camera di Commercio di Imperia, presenti molti tecnici, molti amministratori. Quali i temi trattati? I temi trattati sono l'accreditamento, l'autorizzazione al funzionamento, in base alla nuova normativa che la Regione Liguria si sta apprestando a deliberare, a legiferare, e un confronto sui sistemi di qualità presenti nell'RSA Liguri e il raffronto con i sistemi toscani. Perché tra i relatori abbiamo anche un collega direttore di una struttura sociosanitaria di Figline Valdano della Toscana che ci porta a conoscenza dei suoi sistemi di qualità introdotti e implementati nella propria struttura. La qualità ovviamente deve essere sempre al centro di tutto? Certamente, è imprescindibile nelle nostre strutture non parlare di qualità, perché parlare di qualità significa mettere al centro delle nostre strutture l'anziano, il paziente, con i suoi bisogni, con le sue aspettative e con le proprie necessità. E noi enti gestori dobbiamo dare queste risposte con un'assistenza appropriata, un piano personalizzato e soprattutto avere un'etica del servizio. Tutto questo per dare sicurezza e certezze ai familiari degli ospiti? Certezza, sicurezza e familiari, ma soprattutto una costante certezza di qualità del servizio con delle risposte quotidiane. Come detto, tecnici e amministratori, c'era anche il vicepresidente della regione, Sonia Viale? Certamente, è stato un incontro questa mattina, una mattinata molto intensa e una mattinata molto proficua. Ha aderito all'iniziativa l'assessore Viale che è stato presente con un suo intervento, il dottor Locatelli, commissario straordinario di Alisa, che nonostante siamo in un momento di difficoltà del settore, un momento di cambiamento, hanno accettato questo incontro con gli enti gestori in quanto, diciamo, il parterre, eravamo tutti addetti ai lavori. Quindi direttori amministrativi, direttori generali, medici responsabili delle varie strutture, amministratori, presidenti di fondazioni e di aziende pubbliche di servizio alla persona operanti nel territorio Ligure. E si è svolto in questi giorni in Comune ad Imperio un incontro per discutere del futuro dello stadio Nino Ciccione. Entro all'inizio del prossimo campionato calcistico, o al massimo entro la metà della stagione, si cercherà di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria per avviare il procedimento per l'affidamento in concessione del capo. Vediamo. Si è tenuto in questi giorni un incontro tra Antonio Tomeo e l'assessore allo sport del Comune di Imperio, Simone Vassallo, assieme ai delegati dell'Ufficio Sportivo. L'incontro è stato l'occasione per una chiacchierata informativa sulla realtà dello stadio comunale e a tal proposito l'assessore Vassallo ha sottolineato che sarà cura del settore sport che gestisce appunto gli impianti sportivi collaborare con il settore lavori pubblici che si occupa invece della relativa manutenzione per velocizzare l'attuale situazione. Entro l'inizio del prossimo campionato calcistico, o al massimo entro metà stagione, si cercherà di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria e di avviare quindi il procedimento per l'affidamento in concessione dello stadio. Il relativo bando conterrà tutte le indicazioni necessarie alla selezione dei concorrenti, nonché le modalità di gestione dell'impianto. A tal proposito il Comune di Imperio manterrà il controllo sulla corretta gestione della struttura, mentre al concessionario spetteranno le scelte societarie. È stata approvata da parte della Giunta Comunale d'Imperia la variante per i lavori di riqualificazione di via Cascione. L'intervento ha riguardato la sostituzione e l'adeguamento dei sottoservizi come rifacimento completo dell'acquedote, delle acque nere e dei rispettivi allacci. Sentiamo. La Giunta Comunale d'Imperia ha approvato la delibera inerente la variante nei lavori di riqualificazione di via Cascione. L'argomento più vasto relativo alla delibera riguarda i sottoservizi, ovvero il quadro complessivo dei servizi tecnici, quali il rifacimento completo dell'acquedotto e delle acque nere e dei rispettivi allacci ritrovati durante i lavori in pessimo stato di conservazione. Questi, una volta portati alla luce, hanno visto necessaria la sostituzione ed il relativo adeguamento. Particolare cura è stata impiegata nelle lavorazioni a supporto della documentazione e del rilevamento delle porzioni di acciottolato ottecentesco ritrovato. L'interruzione dei lavori, dovuta al ritrovamento di reperti storici, ha comportato una documentazione fotografica, una relazione storica ed una relazione tecnica, come richiesta dalla Sovrintendenza archeologica della Liguria. Infine, la variante riguarda i costi relativi al taglio delle basole da posizionare, laddove è stato ritrovato l'acciottolato originale, così come la cernita e lo stoccaggio delle basole stesse. L'entità della variazione avrà un costo di poco superiore ai 292.000 euro lordi derivanti dai residui mutui. La cifra viene attinta, infatti, da mutui richiesti per il POR e non completamente utilizzati, essendo l'amministrazione riuscita ad ottenere quote di finanziamento dall'Unione Europea. Soddisfazione è stata espressa per essere giunti alle battute finali di questo progetto dall'assessore Guido Abbo. Luto ad Imperia per la scomparsa di Carlo Alassio, professore ed alpino, molto noto ed apprezzato per il suo impegno volta alla valorizzazione dell'entroterra che lo aveva portato a fondare l'associazione culturale Alecca. Sentiamo. Cordoglio ad Imperia per la scomparsa di Carlo Alassio, professore ed alpino, noto in tutto il territorio per la sua lunga attività di docente e per il suo impegno politico, amministrativo e culturale. Si è occupato fino all'ultimo con passione e intelligenza dei temi a lui più cari, primo tra tutti quello della valorizzazione dell'entroterra attraverso l'associazione culturale Alecca di cui è stato fondatore e presidente. Con lui perdiamo una figura di quelle che raramente è dato intravedere, ha detto il presidente della provincia d'Imperia, Fabio Natta, sensibile, attento, preparato, di una modestia a tratti persino eccessiva, di un valore politico amministrativo e soprattutto umano di elevatissima portata. Il funerale di Carlo Alassio sarà celebrato domani pomeriggio alle ore 16 nel santuario di Nostra Signora dell'Oliveto in Chiusa Vecchia. Alla sua famiglia vanno le condoglianze anche della direzione e redazione di Imperia TV. Lutto anche nel Golfo Dianese per la scomparsa di Roberto Martini all'età di 83 anni, ferroviere in pensione e cantante per passione, protagonista anche sugli schermi di Imperia TV in occasione della trasmissione della lanterna magica in onda a cavallo tra gli anni 80 e 90. Alla famiglia di Roberto Martini vanno le condoglianze della direzione e della redazione di Imperia TV. Noi abbiamo voluto ricordarlo così. il pericolo numero uno la donna l'incantesimo numero uno due, tre, quattro, cinque, sei e sette chi è? la donna la donna la donna la donna grandissimi maestri oh sappio gratina da un lavoratore della riviera trasporti colpevole di aver pizzicato tre passeggeri sprovvisti di biglietto è un episodio molto grave purtroppo non isolato lo ha detto l'assessore ai trasporti della regione di Guglia Gianni Berrino a seguito dell'aggressione ai danni di un controllore dell'azienda di trasporti del Ponente avvenuta ieri ad Imperia oltre ad esprimere la mia personale solidarietà e la piena condanna del gesto anche a nome della giunta regionale ha detto ritengo che il fenomeno del portoghesismo sia una grave offesa al comune senso civico in quanto sottrae risorte preziose al servizio di trasporto pubblico dell'intera comunità la guardia di finanza da sempre particolarmente sensibili anche alle tematiche di interesse sociale intende esprimere in modo tangibile la vicinanza alle popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 patrocinando un evento a scopo benefico organizzato dalla Zen Art Cooperativa Artistica di Genova si tratta di un grande concerto jazz che si terrà sabato 13 maggio alle 21 sul palco della sala maestrale presso i magazzini del cotone del porto antico di Genova la polizia la polizia di stato in vista del ponte del primo maggio rinnova l'invita alla prudenza su strade e autostrade a tal proposito sono state rese pubbliche le tratte dove sono operativi gli autovelox un modo per invitare a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti domani i sistemi di rilevazione di velocità saranno presenti a Genova sulla A10 e alla Spezia sulla A12 domenica gli autovelox saranno posizionati anche sulla Stratale Aurelia in provincia di Imperia e continua la campagna di informazione rivolta alla cittadinanza sul tema della protezione civile promossa dal Comune di Imperia nei mesi scorsi infatti i volontari appartenenti al Gruppo Comunale e alla Santissima Trinità e ai Geologi con l'Audio Geranio e Simone Pitaluga hanno svolto i diversi incontri nelle scuole medie cittadine durante gli incontri è stato illustrato un nuovo sistema regionale di allertamento i principali rischi legati all'ambiente le norme di autoprotezione da adottarsi prima durante e dopo un evento calamitoso il percorso formativo intrapreso ha poi avuto il suo epilogo presso l'elisuperficie San Lazzaro dove è stato mostrato ai ragazzi il funzionamento dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle forze preposte all'intervento in caso di eventi calamitosi ora facciamo una breve pausa ci sentiamo subito dopo il grande cinema entra in oratorio a cervo con le musiche di Ennio Morricone e Nino Rotte e altri nella rassegna Amare la musica domani nell'oratorio di Santa Caterina un concerto di pianoforte e flauto ce ne parla il consigliere comunale Walter Norzi nell'ambito della rassegna Amare la musica a cervo presso l'oratorio di Santa Caterina domani sera domani che è sabato si svolgerà un concerto di pianoforte e flauto a parlarcene è il consigliere comunale di Cervo Walter Norzi quindi parliamo di questo programma chi sono gli autori chi sono gli artefici di questo programma allora intanto è un'iniziativa nuova questo tra l'altro è il secondo dei tre appuntamenti il primo l'abbiamo già effettuato nel mese di marzo tutti appuntamenti che cercano di valorizzare le bellezze artistiche del paese tra cui la chiesa di San Giovanni la chiesa dei Corallini in questo caso l'oratorio di Santa Caterina che ha una sua storia veramente molto importante un oratorio romanico del 1200 tra l'altro verrà prima del concerto effettuata una visita guidata gratuita con uno storico amatore di Cervo che è Luigi Diego Elena che così intratterrà il pubblico che in anticipo arriverà al concerto e questo ci sembra un'iniziativa utile per valorizzare appunto i nostri punti più importanti chi ci sarà al pianoforte e chi al flauto allora al flauto Gianni Gollo che è un buon flautista imperiese e che ritorna da noi ed effettivamente ha un curriculum veramente molto gradevole molto importante scusate e la pianista Paola Recco loro suonano molto insieme quindi è un ensemble decisamente in grande sintonia il programma è decisamente molto interessante perché sarà un programma tratto da colonne sonore quindi musiche di Ennio Morricone piuttosto che di Arimancini Lai e quindi sarà un programma veramente molto molto gradevole lo scopo è uno scopo per beneficenza cerchiamo di aiutare un'associazione che collabora nel risolvere situazioni di difficoltà e di disagio per le famiglie e questo è un periodo che chiaramente è in questi termini lo sappiamo tutti ecco seguirà questo un terzo ed ultimo appuntamento che sarà un concerto di fatto di presentazione del Festival Internazionale di Musica da Camera che si aprirà poi il 14 di agosto con Utu Ugi ma il 12 proprio in questo terzo concerto ci sarà uno organista importantissimo e di nuovo sarà un concerto nella chiesa di San Giovanni Battista nella quale ci sarà appunto anche in quel caso una visita guidata del nostro storico e ci sarà l'appoggio il supporto dell'organizzazione dell'associazione del Lions Imperia Club che ci sostiene e ci supporta da tanti anni nel Festival quindi presso la Rattura di Santa Caterina non abbiamo detto l'orario allora domani sera nell'Oratura di Santa Caterina alle ore 21 e alle 20 e 30 la visita guidata prende il via domani nella suggestiva cornice della fortezza di Castelfranco a finale Ligure l'evento primo maggio a Castel Rock anche quest'anno il programma della manifestazione prevede una ricca scaletta sentiamo qua si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con primo maggio a Castel Rock la cremes dedicata alla musica emergente rigorosamente originale nella suggestiva cornice della fortezza di Castelfranco finale Ligure tre giorni di concerto in non stop con oltre 50 musicisti coinvolti che si alterneranno sul palco da domani alle 20 e 30 fino al pomeriggio di lunedì primo maggio l'evento giunto alla sua quinta edizione organizzata dall'associazione culturale finalese eventi sotto la direzione artistica dell'associazione culturale Castel Rock nata dall'incontro con le associazioni Olzo Rock di Piacenza e l'Antenne Rock di Torino il tutto con il patrocino del meeting degli indipendenti della rete del festival del comune di Finale Ligure siamo felici di essere riusciti anche quest'anno a riproporre l'appuntamento con primo maggio Castel Rock tra i primi rimasti dedicati alla musica emergente e all'aggregazione giovanile ha detto Roberto Grossi direttore artistico della Rassegna e presidente dell'associazione culturale eventi l'obiettivo di questa manifestazione è di offrire spazi alla musica originale ed incentivare la socialità e la cultura cercando al tempo stesso di valorizzare e far conoscere alla gente spazi straordinari come la fortezza di Castelfranco anche quest'anno il programma della manifestazione prevede una ricca scaletta verranno inoltre allestiti nell'area del castello gli stand gastronomici l'evento è ingresso libero da segnalare peraltro l'attenzione che gli organizzatori hanno voluto riservare alla solidarietà confermando la presenza all'evento dell'associazione Mille Amici che raccoglie fondi a favore dell'unità spinale dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure Andora ospite azzurro pesce d'autore grande kermesse enogastronomica dedicata alle eccellenze italiane del territorio di Andora l'appuntamento è dal 29 aprile al 1 maggio presso il porto turistico sentiamo Andora ospite azzurro pesce d'autore grande kermesse enogastronomica dedicata alle eccellenze italiane del territorio di Andora con un'attenzione particolare ai prodotti ittici degustazione di oli extravergine d'oliva nelle scuole show cooking negli incontri sulla dieta mediterranea gare di pesca sportiva tutto proposto dal 29 al 1 maggio nel porto turistico che ospita tre manifestazioni importanti azzurro pesce d'autore itinerario di degustazioni e fiera delle eccellenze di terra e di mare HUC la mostra mercato dedicata al mondo della pesca la prima tappa nazionale di Girolio 2017 nel weekend dal 29 aprile al 1 maggio il pubblico sarà coinvolto in numerose attività degustazioni show cooking nello splendido scenario del porto turistico l'olio extravergine d'oliva e l'antica tradizione delle coltivazioni olivicole sarà il centro di un ricco programma di convegni degustazioni mercatini dell'olio show cooking corsi d'assaggio visita ai frantui che hanno l'obiettivo di valorizzare le eccellenze olivicole ma non solo HUC proporà anche i suoi incontri legati al mondo della pesca sportiva e l'ampia esposizione di prodotti top di gamma del settore a Palazzo Nota Sanremo è visitabile fino al 6 maggio la mostra dal titolo Gli stati dell'animo Sanremo e la guerra dedicata a due partigiani combattenti che hanno lasciato una testimonianza indelebile della loro arte il pittore Italo Ivaldo e il pittore musicista e scultore Renzo Orvieto l'esposizione è visitabile dal martedì al sabato dalle 9 alle 18.30 con ingresso libero i servizi con questa mostra volete far rivivere due artisti di Sanremo che sono appartenuti a questa città sì due artisti dalla storia diversa perché per Renzo Orvieto la vita è stata lunga e ricca anche di soddisfazione e di riconoscimenti forse tranne che a Sanremo la sua città nella quale ha lasciato dei monumenti e delle testimonianze sulle quali molto spesso i giovani accanto alle quali i giovani passano senza sapere nulla di lui e del loro significato Demetrio e Ivaldo ha avuto una storia diversa e più breve però entrambi hanno le radici comuni nella resistenza sono stati combattenti partigiani e hanno amato la loro città dedicandole delle opere anche del periodo di pace nella quale si viveva ancora in maniera serena o nella quale speravano di poter vivere in maniera diversa e per noi era fondamentale recuperare questa memoria e soprattutto farla conoscere alle nuove generazioni perché l'abitudine a dimenticare o a travisare la realtà sta offuscando veramente le nostre radici le quali invece sono importanti a fondare ancora allora ricordiamo l'appuntamento per visitare questa mostra i giorni da martedì a sabato fino al giorno 6 di maggio e il pomeriggio del giorno 6 ci sarà una presentazione del catalogo delle opere di questi due autori di questa mostra abbiamo realizzato una mostra molto bella e penso di parlare a nome anche di Susanna Ivaldo e anche gli obiettivi della mostra credo che siano stati centrati al meglio Sanremo la guerra e gli stati dell'animo allora è soddisfatta per questo riconoscimento siamo molto contenti di aver potuto esporre insieme a un artista affermato come Orvieto conosciuto a Sanremo e in questa bellissima sala tutti quanti insieme lavorando insieme collaborando un grande appuntamento per tutti gli sportivi avrà luogo domani sera alle 21 presso il palazzetto dello sport di Imperia l'associazione Fighting Box con la collaborazione del Comune di Imperia presenta Boxer Night Italia contro Francia in programma 12 match con 24 campioni che si sfideranno in una serata dove tutti gli imperietti potranno avvicinarsi e conoscere meglio una disciplina sportiva di difesa come la box Ora veniamo alle nostre rubriche gli appuntamenti di Riviera 20 i cantieri sull'Auto Fiore del Quadro Meteo in programma Non sono segnalati i cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti i cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. Vediamo il quadro meteo con arpa al meteo Liguria, le previsioni per domani sabato 29 aprile. Una rimonta anticiclonica favorisce una bella giornata con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento. Al pomeriggio possibili addensamenti di nubi comodiformi sui rilievi. Omedità su valori medio-bassi, eventi fino al mattino moderati settentrionali con locali rinforzi sul centro panente, in attenuazione ovunque e tendente a disporsi in prevalenza dei quadranti meridionali. Temporane rinforzi pomeridiani da ovest sullo spezzino. Mare inizialmente mosso in graduale caldo fino a poco mosso. Dopodomani, domenica 30 aprile, poco o irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi medio-bassi. Dalla serata, graduale aumento della nuvolosità a partire da ponente. Umedità su valori medi, eventi in prevalenza deboli variabili ai regime di brezza, con locali rinforzi pomeridiani da sud-ovest sui capi del ponente e da nord-ovest sull'estremo levante. Il mare sarà in prevalenza poco mosso. Noi ci fermiamo qui. L'appuntamento, come sempre, torna alle prossime edizioni. Potete seguirci sul nostro sito imperativo.it, ma anche sui social, facebook e twitter. Grazie per l'ascolto e buona serata. Grazie per l'ascolto e buona serata.